Ciao ragazzi, ciao a tutti, siamo tornati con un nuovo video e questa volta siamo su Tower for L'Ascension, serie che non portavamo da un po' e su cui infatti siamo molto irriuginiti, abbiamo fatto una prova su Moonstone, che sarà la mappa che andremo a fare oggi, la seconda mappa bonus e abbiamo fatto una prova prima e abbiamo visto quanto siamo diventati impediti, per cui vedremo di fare il meglio possibile nonostante le 1437 morti e 466 tentativi 466 tentativi e le inelencabili bestemmie via via cioè nooo nooo io c'è inizio, dai, infatti la mazzacca è già fatta io abbastanza cazzata, quei tutti due è più vero quello che il titolo si è vero, è vero non ho fatto la vita, me è ricominciò io ricominciò come aiutare da me lo so è il tavolo per me stesso un'esercizio 3 per e però non c'è ora non è la cosa ma ho fatto madonna cada per ora notte i tipi del livello questi che cazzo fa capo perà no lo schiaccio omo cosa lascia la feccia un credo almeno possibile c'è l'evoluzione un modo che non so più lezzo del mezzo dell'idea e l'idea e l'idea otoscopi e si guarda l'italia la domanda o chi ufficiale c'è buono il sal valida grazie o anche per te l'azzo di testo la domanda il il l'abastanza per l'ho fatto di partita la fede all'ultima buco poco 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 no la capola come un sacco dai un paico di un cazzo se questo gioco è dovuto vedere più di un cazzo ma oggi oggi doveva tutto te perché schio boom te la pompa ok ci siamo su sculino attivo o percire il terreno di corso d'arri che scuro per oggi che poteva bene a riscoltura paolo scuro di oggi tutto l'uomo l'uomo bambino l'uomo cazzo mi sono cagata addosso quando l'uomo ho preso quasi io ti ho preso quindi comunque la vittoria perchè ti segui il caso? perchè non lo fece vabbè kamikaze lo chiamavano no dai che scusa vedi c'è 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 a questo vabbè via che mi ha dato se tu vedi io vado qui subito oh oh ho una freccia bomba e basta c'è una croccia d'astri che mi ucciderà e pia lo calzo oh 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 cazzo e tu via io mi credo e son piano che c'è piano ma donna ne dice io voi come la coppia beh la cazzo è la cosa che non si dice bene ma fa culo però scopro no 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 volutissimo volutissimo e calcolare voluto la spinta erodinamica ma scoperto più di bella di calma eh accidente al canale allora dai è fattibile tanto no 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 ma ora è un altro 8 di 8 8 ok dopo 6 ore e mezzo se mi arrivate a livello 8 al decimo tentativo boom ho lasciato più eh fallo finire in fretta signore boom la cattelizia ho fatto il suo vabbè ok c'è una foto ho rimasto ehi ci chiedevo anche poi ho tutti i strutturi poi la coppa non mi sono sulla feccia io ho che caso di due di un me io sono più se più adesso dai l'ultima no 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 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 5 9 9 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 11 11 9 10 vedere noi ti chiediamo anche con questo giunfo del calcio di mare e del giardino freddo nonostante via bene ragazzi anche per questa edizia per questo episodio è tutto e io non è vero quindi niente il prossimo episodio bestemmio sarò assolutamente e questo è un bel giusto no perché peggio di questo eeeh come al solito noi li invitiamo lasciare un mi piace il commento con la vostra preghiera personale al signore perchè ci ha fatto passare al vero successivo che così potremmo iniziare con altre bestemmie eeeh ovviamente visto impegno dato in questo episodio iscrivetevi iscrivetevi che cazzo che ho avuto nella filigrana qui sotto come al solito lo sapete cliccateci che ci fa più beh ragazzi da gente volga è tutto si becchiamo al prossimo video bella a tutti GENETTI VOLGATE!